È iniziata ufficialmente la rivoluzione nel centro della città di Cassino, da questa mattina una parte di Corso della Repubblica è chiusa al traffico, sono iniziati i lavori per la pedonalizzazione di quest'area, un provvedimento però che ha trovato le proteste da parte di alcuni commercianti che hanno organizzato diverse manifestazioni, il sindaco invece è di tutt'altro avviso e parla appunto di interventi fondamentali per lo sviluppo della città. Non si tratta solo di un intervento, di una pavimentazione, di un tratto di Corso ma di un cambiamento radicale della struttura di questa città che non ha mai avuto un centro storico, un luogo di aggregazione, abbiamo visto già i primi effetti con Piazza Diamare, il completamento sarà con Piazza Labriola, il Corso della Repubblica, un tutt'uno dove questa città finalmente dopo 79 anni dalla distruzione avrà un centro e deve essere soprattutto un centro di aggregazione sociale. All'inizio potranno esserci delle difficoltà, dei disagi ma sicuramente a lungo andare sarà una grande rivoluzione per questa città e porterà benefici per tutti, per i cittadini ma anche per i commercianti. Qui in piazza i cittadini in prevalenza si dicono favorevoli all'idea dell'isola pedonale mentre i commercianti che abbiamo provato a sentire lungo questo tratto di strada non vogliono rilasciare dichiarazioni dicendo che il loro è un comitato e si affidano quindi al loro rappresentante che è Florindo Buffardi. Raggiunto telefonicamente Buffardi ci ha spiegato che l'associazione è in silenzio stampa per questo tema, presto però faranno una conferenza per spiegare nel dettaglio le loro posizioni. Voi che cosa pensate della chiusura del corso? Perfetto, sarebbe ora pure che qualcuno cominci a pensare all'isola pedonale, lasciare un minimo di spazio ai pedoni, insomma alla gente che la sera vuole, secondo me non condiziona nella maniera più assoluta quella che è l'attività commerciale. Anzi, secondo me i commercianti ne beneficineranno dell'isola pedonale. Prima di chiudere il corso avrebbero dovuto liberare via Rigni e via Marconi fino a laggiù. Mi consigliano di destra, però vado a favore dell'amministrazione perché l'ossido di azoto è cancerogeno. Ho fatto vedere la sindaca le foto di Chivasso, centro storico chiuso a traffico pedonabile, ci sono stati anni fa, era il genio ferroviario e nessuno si lamenta, anzi la città ha quattro centri commerciali, tre uscite autostrade e nessuno si lamenta dalla chiusura. Quindi secondo lei questa è una buona idea? Molto, come a Milano che fa da Duomo fino a Castello Suozesco che cammina tranquillamente. I commercianti secondo me potrebbero guadagnare qualcosa in più con l'isola pedonale e con le persone che vanno in giro per il corso. È anche buono questo fatto di chiudere la corsa così le famiglie possono passare una giornata più insieme, insieme, così e passeggiare senza problemi. Chi amministra deve guardare all'interesse generale e non a quello dei singoli. Ci sono alcuni che hanno delle perplessità, che si ricrederanno nel corso degli anni, ma l'interesse generale della città è quello di avere un nuovo volto. Noi l'abbiamo proposto in campagna elettorale, abbiamo presentato il progetto un anno e mezzo fa a Piazza Labriola, grande favore da parte dei cittadini e quindi andiamo avanti con quella che è stata la nostra proposta in campagna elettorale.